Benvenuti, vi ringrazio di essere qui per questo incontro, un incontro in cui io vorrei raccontarvi una serie di storie che sono abbastanza singolari anche se per noi che studiamo il mondo antico, l'antropologia del mondo antico in particolare, sono forse più consuete che per altri. In ogni caso vorrei partire per questa escursione nel mondo dell'identità, dei doppi e come vedremo dei doppi diacronici, cioè dei doppi che si riproducono all'infinito nel corso del tempo. Vorrei partire da un grande testo, uno dei più grandi forse della letteratura occidentale, cioè la quarta ecloga di Virgilio. La quarta ecloga di Virgilio è, sicuramente qualcuno l'avrà studiata a scuola o anche dopo, ma è una diciamo dei testi più celebri delle bucoliche perché lì improvvisamente Virgilio smette di parlare di pastori, di ninfe, di ragazze innamorate, di greggi che hanno bevuto abbastanza eccetera eccetera e improvvisamente fa un discorso di carattere profetico, messianico in qualche modo. Cioè dice, sia vera l'oracolo della Sibilla, finalmente torna la giustizia, torna l'età dell'oro e torna assieme a un bambino. Torna assieme a un bambino, questo puer misterioso che nasce, che è nato e che col suo sorriso in qualche modo darà inizio a un'altra epoca, un'epoca migliore, un'epoca di felicità. Come dice lo stesso Virgilio, un'epoca d'oro, torna all'età dell'oro. Perché parto da qui? Beh, perché è un grande testo prima di tutto. Secondo me noi nella nostra cultura, nella nostra esperienza culturale abbiamo ancora bisogno di grandi testi. La quarta ecloga di Virgilio è un, diciamo, quando noi la leggiamo, ci dovremmo rendere conto che se la leggiamo e la studiamo a scuola, la facciamo studiare a scuola ai nostri figli, loro studiano un testo che ha studiato Alessandro Manzoni, che ha studiato con grande passione Torquato Tasso, un testo che ha ispirato Dante Alighieri nella Divina Commedia. Quando io ho fatto distribuire, non so se l'avete ricevuto, un piccolo handout, come dicono gli americani, insomma, contiene questi testi. Ci sono anche i versi di Dante ispirati a questa ecloga. Nel Purgatorio, quando Dante incontra l'anima di Stazio, il poeta Stazio, il poeta romano, anche lui come Virgilio, Stazio dice, io mi sono convertito al cristianesimo quando ho letto praticamente la quarta ecloga, cioè quando tu, Virgilio, mi hai fatto diventare cristiano. Per te poeta fui, per te cristiano, dice, quando dicesti, secol si rinnova, torna giustizia, è il primo tempo umano e progeni e scende dal ciel nuova, che è una traduzione pari pari della quarta ecloga di Virgilio. Quindi addirittura da Stazio sarebbe convertito al cristianesimo. Però se noi andiamo indietro, la quarta ecloga è quella che ha studiato e commentato lungamente Sant'Agostino, che ha commentato San Gerolamo, che ha letto l'imperatore Augusto. Cioè noi, quando leggiamo la quarta ecloga, leggiamo lo stesso testo, un testo che appassionò Augusto. Ecco, questo si parla tanto sempre di identità culturale, dell'Occidente, identità culturale. Ma che cos'è questa identità culturale? Molto banalmente, secondo me, ma però dopo se vorrete possiamo discutere, molto banalmente è continuare nel tempo a leggere gli stessi grandi libri. Questa è l'identità culturale. Cioè l'idea di avere in comune la lettura di un libro con o di una poesia, con Agostino o con Augusto, questo fa l'identità culturale, anche, diciamo, contribuisce a fare l'identità culturale di un gruppo, di una nazione, o di una lingua, o di quel che sia. Per cui, quando si recidono questi fili di continuità, bisognerebbe sapere quello che si sta facendo. Ma torno alla quarta ecloga, questo grande testo, che a un certo punto è un testo da imperatori, in un certo senso, perché Augusto stesso, leggendola, si ispirò dopo nel creare l'Udi Seculares, che fu un grande evento a Roma che si faceva ogni cento anni e che fu ispirato alla quarta ecloga e alla profezia della Sibilla, ugualmente. Cosa che meno persone sanno, mi sono accorto, è questa, che a un certo punto quest'ecloga fu cristianizzata, cioè fu interpretata come una profezia dell'avvento del cristianesimo, dell'avvento del Salvatore, e a cristianizzarla fu niente meno che l'imperatore Costantino. Il quale Costantino, in una orazione sacra che tenne in occasione delle vere di santo, a un certo punto, in greco, cominciò a leggere e commentare questa quarta ecloga interpretandola cristianamente. Quindi potete immaginare il puer, chi è? Beh, il bambino Gesù, è lui che verrà a salvare e a dare inizio alla nuova era. E poi, dice Virgilio, torna la Virgo, cioè la giustizia. Beh, era facile per Costantino dire chi è la Virgo, ma è Maria, la madre di Gesù. E questa nuova progenies che scende dal cielo, chi sono? I cristiani. Lui quindi si impadronì dell'ecoga, la cristianizzò. Questo spiega poi perché Dante la interpretò, diciamo, in quel modo, facendone un motivo di conversione per Stazio. lo stesso imperatore che cristianizzò l'impero, che fece dell'impero romano un impero cristiano, è anche colui che ha cristianizzato la quarta ecloga. Forse questo dovrebbe dare in poche parole la misura, diciamo, dell'importanza di questo testo. Ma l'identità e i doppi che c'entrano, diciamo, quando vengono fuori. Vengono fuori a un certo punto dell'ecloga. Io nel testo che vi ho distribuito ho indicato le quattro tappe della rinascita, diciamo, quindi la prima tappa è quella del bambino che ancora nella culla crescono spontaneamente fiori attorno e dentro questa culla, eccetera. Poi viene il momento in cui la seconda fase il bambino già cresciuto ha imparato a leggere, potrà conoscere le imprese degli eroi, quelle dei suoi padri, di suo padre, eccetera. Poi il puer che raggiunge la maturità e allora non c'è più bisogno del commercio, della navigazione. Tutto è spontaneo, tutto non c'è... I romani detestavano in fondo la cosa di cui vivevano, cioè il commercio. Stranamente avevano un disprezzo per il commerciante pari all'importanza che gli attribuivano nei fatti, no? Con il culto della ricchezza. Però qui si dice in un momento di grande felicità come questa rinascita non ci sarà più bisogno di commerciare. E poi finalmente la quarta, il quarto momento è quando il puer cresciuto diventa adulto e assume gli honores che gli toccheranno. Ed è il punto diciamo più delicato e nella terza tappa perché si dice che quando il puer avrà raggiunto quella età e avrà imparato a leggere eccetera eccetera dice Virgilio ci sarà un altro Tifi, un'altra nave Argo per condurre una schiera di scelti eroi, ci saranno altre guerre e di nuovo il grande Achille sarà inviato a Troia. Quindi è un momento in cui torna Tifi che è il timoniere della nave Argo quella degli Argonauti ci saranno di nuovo gli Argonauti che esploreranno il mare il Mediterraneo il Mar Nero eccetera ci sarà di nuovo e di nuovo il grande Achille sarà inviato a Troia quindi ci sarà un'altra guerra di Troia. Che vuol dire Virgilio? Perché dice questo? In questa grande profezia diciamo di avvento di un'altra epoca lui in qualche modo suggerisce l'idea di un ricominciare ricomincia il mondo ricomincia il ciclo degli eroi ricomincia quello che noi chiamiamo la mitologia dei Greci e che invece per loro era poi un insieme di riti religiosi di credenze di racconti eccetera insomma il mondo ricomincia tornano le generazioni degli eroi perché il commentatore di Virgilio commentatore antico di Virgilio che si chiamava Servio da una spiegazione molto affascinante di questo ritorno abbastanza esplicito perché dice il poeta ha detto che al termine di tutte le età le stesse cose da capo si rinnovano anche i filosofi giungono alla medesima conclusione tramite il seguente ragionamento al termine del grande anno tutti gli astri tornano nel punto da cui sono sorti e ricominciano a compiere lo stesso moto quindi qui lui sta prefigurando una situazione della filosofia stoica il grande anno è il ciclo completo di tutti gli astri una volta che tutti gli astri ritornano dopo aver compiuto il loro movimento nella posizione esatta dell'inizio che avevano all'inizio lì si conclude il grande anno ora dice lui se il moto degli astri è il medesimo è necessario che si ripetano anche tutte le cose che sono state è manifesto infatti che tutto dipende dal moto degli astri seguendo questa teoria Virgilio afferma che torna l'età dell'oro e si ripetono tutte le cose che già sono avvenute quindi c'è dietro una teoria di carattere astrologico prima diciamo il movimento degli astri gli astri lentamente per centinaia e centinaia di anni seguono una rotta che poi li riporta al momento iniziale momento in cui il mondo è cominciato quindi c'è un inizio nuovo ma siccome dice Servio tutte le cose dipendono dal moto degli astri c'è questa influenza astrale su tutti noi su tutto ciò che avviene è ovvio che se gli astri riprendono la stessa posizione che avevano all'inizio ricominciano anche tutte le cose di questo mondo ecco perché il mondo ricomincia e Servio spiega commentatore antico che è la teoria degli stoici che loro chiamavano apocatastasis il ritornare nella stessa posizione quindi secondo il commentatore antico di Virgilio questo ritorno degli eroi deriverebbe semplicemente da questo siccome il mondo ricomincia da capo c'è di nuovo un'età dell'oro poi riviene un'età degli eroi e quindi un'altra volta ripartono gli argonauti con il loro timoniere tifi un'altra volta il grande Achille va sotto le mura di Troia e poi farà le stragi che come sapete ha fatto spero non le conosciate solo dal film Troi altrimenti ne avrete una immagine alquanto distorta però sostanzialmente diciamo Achille quello era un guerriero sanguinario e crudele anche se diciamo un po' meglio di Brad Pitt questo me lo dovete concedere Achille è un personaggio tormentato da questo fato che gli incombe di morire giovane il culto dell'eroe Brad Pitt secondo me non andava potremmo parlarne se volete comunque immaginate che Troia ricomincia ricomincia la guerra di Troia ricomincia l'Iliade ricomincia tutto è così bizzarra quest'idea per noi forse per i filosofi antichi e per la cultura antica non tanto nel senso che i primi a proporre l'idea che il mondo a tappe fisse potesse ricominciare erano stati non gli stoici ma i pitagorici io ho riportato in questo handout un po' di testi con calma ve li guarderete semmai dopo direi che l'esempio più interessante ce lo dà un discepolo di Aristotele che si chiamava Udemo di Rodi che doveva essere anche uomo dotato di un certo spirito un certo humorismo il quale una volta afferma dice se il medesimo tempo ritorni come affermano alcuni oppure no è discutibile vabbè sono filosofi chiaro sempre tutto è discutibile se poi si deve credere ai pitagorici secondo i quali le cose saranno di nuovo le stesse per il numero cioè ritorneranno esattamente uguali nella stessa misura anch'io un giorno con questa bacchetta in mano aveva la bacchetta il professore sarò di nuovo qui a conversare con voi seduti così come ora e tutte le altre cose saranno in modo uguale e il tempo sarà logicamente il medesimo quest'idea di Eudemo o di Rodi almeno di fronte a me apre una sorta di vertigine cioè se hanno ragione i pitagorici dice lui questa stessa scena in cui io sto raccontando quello che i pitagorici pensano si ripeterà all'infinito io sarò di nuovo qui con la bacchetta in mano voi sarete di nuovo lì ad ascoltare diremo le stesse cose e accadranno gli stessi eventi dà un senso di vertigine questo perché corrisponde esattamente alla situazione in cui ci troviamo noi ora cioè in qualche modo se io fossi indegnamente Eudemo di Rodi e voi molto più degnamente i suoi ascoltatori dovremmo immaginare che ci ritroveremo tutti a Pistoia io sarò di nuovo qui e riparleremo di Brad Pitt cioè sarebbe un movimento all'infinito di riproduzione nel tempo le stesse eventi continuerebbero ad accadere che cosa diciamo come potremmo cominciamo a cercare di definire la questione come potremmo definire tutto ciò ci sarebbero di noi nel futuro e all'infinito perché questo è specificato nel testo infinite volte ci sarebbero dei doppi cioè noi o dei nostri doppi dei nostri equivalenti che nel tempo si produrrebbero nelle stesse azioni come una specie di questi film o romanzi di fantasy che inaugurati da Blade Runner insomma il mondo dei replicanti ci sarebbero per noi una serie di replicanti di noi stessi che all'infinito nel tempo continuerebbero a riprodurre ciò che è già avvenuto il che dimostra che spesso la fantasia dei moderni non fa che l'ambire è quella degli antichi ma non riesce a veramente per quanto Blade Runner sia un capolavoro ma trovo che questa idea di Eudemo di Rodi in qualche modo sia ancora più sconvolgente di questa teoria si impadronirono gli stoici facendone ovviamente il loro uso e per esempio il capofila degli stoici fondatore della scuola Zenone ci viene raccontato noi purtroppo questi scritti non li leggiamo più non ci sono arrivate le opere di Zenone di Crisippoli leggiamo per frammenti da gente che li citava purtroppo il mondo antico ci ha tramandato una quantità di testi pochissimo interessanti potrei farne rapidamente un elenco e di interessantissimi non ce ne sono arrivati e vabbè è andata così però almeno per frammenti li conosciamo che cosa dicevano gli stoici Zenone afferma che dopo la conflagrazione quindi la fine di questo grande anno ritorneranno gli stessi uomini a vivere le stesse vicende e cioè che torneranno Anito e Meleto in veste di accusatori Busiride come assassino di ospiti ed Eracle come lottatori come lottatore a cosa si riferisce Zenone Anito e Meleto furono gli accusatori di Socrate quelli che portarono Socrate in tribunale Busiride era un famoso brigante accusato di uccidere i propri ospiti crimine spaventoso nell'antichità che poi fu ucciso da Eracle quindi secondo gli stoici ci sarebbe stato ad infinitum il processo di Socrate quegli stessi accusatori ma ci sarebbe stato ad infinitum anche il mito i racconti del mito Busiride che uccide gli ospiti Eracle che uccide Busiride e così via e così un altro Nemesio che cita ancora Zenone diceva torneranno ancora Socrate e Platone e ciascuno degli uomini che sono già vissuti e poi entrava nel dettaglio avranno gli stessi amici e concittadini quindi viveranno nelle stesse le stesse convinzioni si imbatteranno negli stessi casi e intraprenderanno le stesse azioni ogni città villaggio o campo assumerà la medesima configurazione che aveva prima quindi perfetto cioè addirittura la configurazione dei luoghi degli eventi tutto quanto origine l'autore cristiano il padre della chiesa che derideva questo tipo di credenza degli stoici pur condividendo la credenza nella resurrezione dei corpi che è qualcosa di peraltro abbastanza simile e che pone agli antichi gli stessi problemi cioè che cosa succederà quando i corpi risorgeranno e già gli antichi anche gli stessi padri della chiesa si chiedevano sì risorgeranno ma in che condizione risorgeranno giovani vecchi di mezza età non è una dottrina semplice nemmeno quella però qui origine prende in giro gli stoici e dice Socrate sarà di nuovo figlio di Sofronisco e Ateniese Fenarete sposerà di nuovo Sofronisco e lo metterà al mondo Sofronisco era il padre di Socrate e Fenarete era sua moglie Socrate tornerà a vivere nato dallo sperma di Sofronisco prenderà forma nell'utero di Fenarete sarà educata ad Atene diventerà filosofo e la sua filosofia non avrà nulla di diverso da quella di prima Anito e Meleto torneranno anch'essi a vivere di nuovo accusatori di Socrate e l'aereopago condannerà Socrate e gli indosserà degli abiti che non differiranno in nulla da quelli che portava un tempo la sua povertà non avrà nulla di diverso da quella del passato in una città di Atene che non sarà diversa in nulla da quella del periodo precedente insomma il mondo si ripete ad infinito a questo punto uno si può chiedere ma questi doppi diacronici questi questi sosia che si producono all'infinito chi saranno esattamente uguali oppure no cioè proprio identici in tutto e per tutto sembra che purtroppo leggiamo solo dei frammenti ma nella filosofia stoica ci fossero delle posizioni contrastanti cioè come dire che erano proprio uguali ma fino a un certo punto per esempio uno un altro dei nostri dossografi insomma che ci tramandano queste idee filosofiche degli storici Alessandro di Afrodisi e dice quanto alle caratteristiche specifiche che verranno dopo rispetto a quelle che c'erano prima si verificheranno solo differenze accidentali ed esteriori le quali differenze non sono tali da mutare Dione che qui è vivo Dione è un esempio filosofico insomma un tale questa persona queste differenze non saranno tali da mutarlo completamente infatti Dione in questo secondo terzo quarto quinto ciclo non diventerà un altro ma se prima aveva dei nei sul viso non li avrà più facoi dice la parola greca dei nei nei o lentigini quindi sì sono uguali però se prima aveva delle lentigini o dei nei sul viso la volta dopo non ce ne avrà più ma uno si può chiedere ma allora non è lui cioè è lui ma non è lui se è un lui che però non c'è più i nei o le lentigini quanto è lui e quanto non lo è in generale gli studiosi di filosofia antica ritengono che siano differenze elementali marginali di nessuna rilevanza che lui voglia dire vabbè insomma ne ho più ne ho meno le cose non cambieranno sarà sempre Dione io personalmente non penso che sia così e qui volevo aprire una breve parentesi su nei e lentigini nella cultura antica se mi è concesso un argomento che sembra un po' minore e bizzarro ma ritengo che sia molto rilevante proprio per il tema dell'identità perché siamo sicuri che la percezione di nei lentigini verruche cicatrici ed altri segni corporali nel mondo antico fosse la stessa che abbiamo noi questa è una domanda che io e in generale noi che lavoriamo a Siena al centro di antropologia del mondo antico ci poniamo spesso ma siamo sicuri che gli antichi vedevano le cose proprio come noi pensavano proprio come noi oppure è un'illusione in realtà percepivano e consideravano diversamente cose che a noi sembrano tanto ovvie secondo me nei lentigini e verruche rientrano esattamente in questa categoria avere un neo in Grecia o a Roma non era esattamente e neanche nel medioevo non era esattamente la stessa cosa che per noi perché per un motivo semplice quello è un mondo in cui non esiste la carta di identità e non esiste la fotografia sicuramente lo avrete già sentito dire nei vari bellissimi dibattiti che ci sono stati qui che sono tutti centrati sull'identità il documento di identità nasce probabilmente in India nell'amministrazione coloniale britannica agli inizi del novecento la carta di identità nel senso in cui la intendiamo anche noi sembra essere un prodotto del governo di Vichy quindi del governo collaborazionista francese cioè uno strumento di identificazione che nasce addirittura in un momento di dittatura in un momento di oppressione in ogni caso è un qualche cosa il documento di identità con la foto o peggio ancora le impronte digitali che ti prendono quando vai in America all'aeroporto qualcosa di assolutamente recente noi siamo identificati così dalla foto dal documento di identità e dal polpastrello sostanzialmente vabbè poi ci sono cose più raffinate il DNA o quel che sia ma pensate un mondo in cui tutto ciò non esiste come si fa a dire che appunto Dione è Dione e non un altro per esempio nella commedia di Plauto per dire riconosco quel tale lui è veramente lui è proprio lui a cosa si fa appello? beh alla forma al colore degli occhi alla forma del naso al colore dei capelli a quello della pelle oppure vi ricorderete come viene riconosciuto Odisseo nell'Odissea da una cicatrice ah tu sei tu perché hai la cicatrice la nutrice lo riconosce perché lo lavava da bambino quindi vede quel segno in altre parole tutti questi segni corporali sono estremamente importanti per riportarci in una condizione in qualche modo moderna simile a quella che evocavo prima l'identificazione per motivi criminali di detenzione ci racconta Svetonio che Augusto dopo che ebbe fatto relegare la figlia Giulia Ventotene Augusto è stato sfortunato con la famiglia Giulia non era un esempio di virtù la fece relegare in quest'isola di Ventotene e poi la controllava e dice il biografo non permise che fosse avvicinata da nessuno libero schiavo senza che lui fosse interpellato personalmente e a condizione che lui fosse informato dell'età della statura del colore della pelle del visitatore e perfino dei segni fisici particolari o delle cicatrici e si parla di note corporis cioè i segni che si hanno sul corpo note corpus e cicatrici in pratica perché lui voleva sapere questo perché così riconosceva la gente se gli dicevano è venuto un tale che aveva appunto un neo sul naso o una cicatrice sulla mano lui dice ah no è andato tizio e questo non va bene la sua forma di controllo non poteva dire se ci va il tal personaggio e mostra il documento e vedete che è lui fermatelo lui poteva fondarsi solo su questo ma testimonianze anche ugualmente interessanti vengono dal Medioevo una nostra collega di Siena Gabriella Piccini ha studiato i registri del Santa Maria della Scala un ospedale medievale molto importante in cui spesso il pellegrino depositava i suoi beni piccoli beni un po' di oro danaro anelli eccetera per paura di essere depredato lungo la via che portava a Roma o viceversa e però poi voleva tornare a riprenderseli e come faceva il frate a dire te lo do cioè a fidarsi che era lui aveva un registro in cui si prendeva nota delle delle persone cioè il frate identificatore diceva è un tizio che ha i piedi larghi che ha colorito i capelli così così che ha un neo in questo posto eccetera eccetera l'entiginosus spesso proprio questo carattere l'entiginosus della pelle è sottolineato e così il registro degli schiavi di Firenze perché il medioevo italiano c'era gli schiavi poi sembra che non ce li abbiamo mai avuti noi cosiddetti cristiani ma ce li abbiamo avuti e come fino a ahimè hanno molto tempo fa il registro degli schiavi di Firenze descrive 357 individui in cui in un latino molto buffo si leggono note di questo tipo medie stature pelle bianca cum neo super naso etalis duobus parvis super mela gote dextre altri due piccoli sulla mela della gota destra etalio supercilio sinistro etalio prope oculum sinistrum insomma si identificavano lo stesso avviene però nel mondo antico ora non voglio annoiarvi ma non so un papiro egiziano nel 257 era di Egitto nel 257 dopo Cristo è una lettera di accompagnamento di uno che invia degli schiavi a un signore arabo e fra questi schiavetti c'è un certo Aimos Aimos è descritto così dieci anni colorito scuro capelli ricciuti qualche neo la stessa parola fachos quella degli stoici sulla macella destra non circonciso e così discorrendo il problema dunque è che l'avere o meno un segno corporale nel mondo antico mette in discussione ciò che noi definiamo identità e quindi in realtà dire che Dione non avrà più il neo quando rinascerà in quest'altro ciclo non vuol dire che sarà quasi lo stesso vuol dire che sarà un po' diverso sarà quasi un altro perché la sua identità in questo passaggio di marche corporali non sarà più la stessa che è un tema diciamo di grande interesse andrebbe approfondito discusso cioè come si fa identità nel mondo antico uno dei modi del fare identità nel mondo antico è proprio questo i segni corporali infatti ci dice Plinio Plinio il Vecchio lo scrittore del primo secolo dopo Cristo il grande enciclopedista dice tagliarsi nei usa proprio l'espressione tagliarsi nei era considerato religiosum proibito dagli dei perché? cioè perché c'è di a parte che è una cosa sciocca come sappiamo perché è molto pericoloso ma perché doveva essere in viso agli dei il tagliarsi nei? probabilmente perché si rischiava di diventare altri si alterava la propria identità il neo è come dicono i romani una nota genitiva cioè un un qualche cosa che viene dalla nascita non si può alterare e fa parte di scusate vado avanti con la mia esplorazione di doppi diacronici di doppi che si riproducono nel tempo finora abbiamo detto che questi doppi forse erano leggermente diversi la loro identità mutava esternamente in qualche modo però la vera domanda quella dal replicante di Blade Runner è poi un'altra cioè ma Socrate quando vivrà nel nuovo ciclo si ricorderà di essere già esistito oppure no perché questa è la vera identità personale si fonda poi come voi sapete sulla memoria la memoria del sé è quello che garantisce la permanenza del quella che si chiama l'identità ipse l'identità del permanere come soggetto nel corso del tempo allora uno si potrebbe chiedere Socrate quel giorno si ricorderà di essere già stato Socrate di aver già subito il processo oppure no oppure sarà completamente ignaro oblioso di tutto ciò che è avvenuto prima questo fa pensare per contrasto a un'altra teoria filosofica antica e religiosa che sicuramente ricorderete cioè quella cosiddetta orfico-pitagorica la teoria della metempsicosi della reincarnazione questo è un modello diverso potremmo dire mentre in quella degli stoici Socrate si riproduce identico nei vari cicli o Anito Meleto chiunque sia chiunque di noi si riprodurrà identico nei vari cicli nella teoria di Pitagora e dell'orfismo esiste una cosa che si chiama anima psuche che si reincarna di volta in volta in persone diverse e si reincarna anche in animali o piante quindi è poi la teoria sostanzialmente il modello indiano diciamo che esiste in molte altre culture è una cosa diversa vedete non è il riprodursi uguali fisicamente in cicli diversi no è il presentarsi in maniera del tutto differente ma contenere come recettacolo un'anima che ha già vissuto in altri corpi anche qui si pone la domanda ma si ricordano di averlo fatto si ricordano queste persone di essere già stato già state beh è il modello Virginia Woolf Orlando questo attraversare che ha letto questo romanzo se lo ricorderà attraversare le epoche una stessa persona che diventa di volta in volta altra allora normalmente i seguaci di Pitagora e di Orfeo pensano che da una volta all'altra non ci si ricorda nulla e anzi è previsto proprio una fase in cui la psiche si purifica beve l'acqua dell'oblio l'ete e dimentica tutto ciò che è stato di modo che una volta diciamo reincarnata si veramente vive una nuova vita ha una nuova identità in qualche modo a che uno si domanda ma allora che bisogno c'è di reincarnarsi se uno si dimentica tutto che vantaggio dà è una forma di sopravvivenza questo per me sostanzialmente no perché se uno ha dimenticato tutto è come se rinascesse da capo quindi non ci vede un grande vantaggio nel riprodursi in questo modo però c'erano alcuni privilegiati che servavano memoria del passato e uno di questi è proprio il fondatore Pitagora si diceva infatti che l'anima di Pitagora avesse o meglio l'anima che fu anche in Pitagora avesse avuto questo privilegio di serbare memoria di tutte le vite precedenti ce lo dice uno scrittore antico che si chiamava Eraclide Pontico dunque Pitagora diceva di se stesso di essere stato in passato etalide e di essere stato creduto figlio del dio Hermes il dio gli avrebbe detto di scegliersi il privilegio che desiderava a esclusione dell'immortalità beh quello è troppo e lui avrebbe chiesto di conservare sia da vivo che da morto il ricordo di quanto accadeva quindi etalide chiese padre Hermes io mi voglio ricordare di tutto è una memoria infinita un po' come nel racconto di Borges no? funes della memoria che ricorda tutto non obblia mai niente così finché restò in vita etalide ricordava ogni cosa morto ne serbava il ricordo allo stesso modo poi avrebbe assunto le spoglie dell'eroe Euforbo e sarebbe stato ferito da Menelao alla guerra di Troia Euforbo per parte sua affermava di essere stato in passato etalide e di aver ricevuto da Hermes quel dono e raccontava tutte le trasbigrazioni della sua anima in quante piante animali era migrata quando le era capitato quanto le era capitato nell'ade cosa dovevano subire altre anime quindi quando poi quest'anima è entrata in Euforbo Euforbo si ricordava di tutto diceva sì io mi ricordo che sono stato questo quest'altro piante animali poi sono stato etalide alla morte di Euforbo perché qui la storia è lunga la sua anima era trasmigrata in ermotimo e quest'ultimo desideroso di dare prova della cosa si recò a Branchide che era un famoso santuario entrò nel tempio di Apollo dove indicò lo scudo dedicato da Menelao ormai imputridito di cui rimaneva soltanto la superficie d'Avorio in effetti diceva Menelao aveva consacrato lo scudo ad Apollo al suo ritorno da Troia quindi Menelao dopo aver ucciso Euforbo gli aveva portato via lo scudo e l'aveva appeso nel santuario di Branchide e questo signore ermotimo entrando dentro si era commosso e aveva detto questo era il mio scudo lo riconosco gli antichi si facevano già beffe di questo racconto e dicevano vabbè così ci vuol poco qualcuno raccontava addirittura nello scudo c'era scritto Euforbos quindi non valeva perché c'era eletto c'era Euforbos dopodiché morto ermotimo divenne Pirro pescatore di Delo questo non si spiega come mai da un figlio di Hermes Euroe Euforbo poi diventa Pirro pescatore di Delo vabbè alla morte di Pirro e vabbè si ricordava di essere Euforbo eccetera alla morte di Pirro divenne Pitagora e servò memoria di tutte le precedenti vite appena ricordate quindi questo Pitagora aveva il privilegio di ricordarsi tutte le aveva i ricordi di tutte le persone in cui la sua psiche era vissuta il che dà un carico di identità impressionante perché uno si può domandare a quel punto ma chi è Pitagora? si può parlare di una persona chiamata Pitagora se nella sua mente sono stivati i ricordi di Etalide di Euforbo di Ermotimo di Pirro com'è possibile? chi è costui? infatti Pitagora si presenta come un personaggio in qualche modo sconvolgente qualcuno direbbe sciamanico cioè una figura soprannaturale ed è questo deriva da questa straordinaria molteplicità di identità che lui possedeva o intendiamoci affermava di possedere del resto anche Empedocle che condivideva queste credenze diceva sì io mi ricordo di essere stato fanciulla cioè ho avuto anche l'esperienza di appartenere all'altro sesso all'altro gender il che crea ovviamente anche Empedocle era un grande mago un guaritore e gli dava questa forza straordinaria della molteplicità dell'identità della molteplicità delle memorie o dei ricordi di tutto questo affascinantissimo mondo della molteplicità delle memorie della psichè che passa di corpo in corpo eccetera eccetera ovviamente solo i privilegiati solo i grandi hanno questo destino altrimenti le persone normali come saremo noi non conserveremo alcuna memoria del nostro passato fa giustizia splendidamente Lucrezio Lucrezio il grande poeta romano epicureo e materialista che crede fermamente che il mondo è tutto fatto di piccole particelle gli elementa cioè gli atomi di Democrito che si combinano e si ricombinano in continuazione e in questo modo danno vita al mondo e a un certo punto anche lui si pone questa domanda sul ritorno dell'identità sui doppi diacronici come li abbiamo chiamati perché lui filosofo materialista quindi in un certo senso anche come dire probabilista con una consapevolezza secondo me della teoria della probabilità che è molto interessante lui dice non si può escludere che venga un momento in cui gli atomi si ricombinino esattamente nello stesso modo in cui sono combinati ora dentro di noi questo non si può escludere perché gli atomi sono in moto perenne una continuazione diciamo di movimento perenne e quindi perché io dovrei negare la possibilità anche se è remota che si ricombinino esattamente come sono ora a quel punto io ci sarei di nuovo in un altro modo secondo un'altra teoria filosofica ma si riprodurrebbe la stessa situazione Lucrezio ritorna a vivere perché per una combinazione assurda gli animi gli atomi si sono ricombinati allo stesso modo però lui dice in ogni caso sta parlando della paura della morte dice in ogni caso non bisogna nemmeno in quella circostanza aver paura della morte perché uno non si ricorderebbe più la sua morte passata non dovrebbe avere il terrore di questo passo che ha già varcato perché è finita ciò che lui definisce con questa espressione filosofica è intraducibile la ripetenzia nostri cioè la capacità di ristabilire ripetere il contatto con noi stessi dice c'è stata una tale cesura di tempo nel mezzo tempo quasi infinito che noi non possiamo più ristabilire la memoria con ciò che siamo stati e quindi è come se fossimo un'altra persona saremo noi ma non ma non saremo noi perché non avemo più la memoria in questo probabilmente è simile all'atteggiamento che avevano gli stoici che non parlano mai della memoria che poteva risorgere in questi doppi è molto interessante come Lucrezio si esprime qui perché dice tuttavia se fossimo restituiti alla nostra vita non saremmo toccati da questo avvenimento una volta interrotta la relazione di memoria con noi stessi dice e anche adesso a noi non interessa nulla di noi quali siamo stati un tempo e non ci assale alcuna angoscia di quel noi di allora quindi noi di adesso non ci preoccupiamo di quel noi che siamo stati e così per quel noi che fumo non è lo stesso noi in cui diciamo che consistiamo oggi è un modo di esprimersi molto contorto quel noi di ora i noi di ora i noi che fumo noi che siamo stati quei noi lì è un modo anche abbastanza singolare di esprimersi questo diciamo non fa come dire meraviglia perché quando si comincia a parlare dell'identità e della sua divisione del fatto che c'è un altro io in giro diciamo quando si parla della possibilità di sdoppiarsi beh come dire il linguaggio comincia a ansimare comincia a fare difficoltà per esempio la volta in cui in una commedia di Plauto l'anfitrione Sosia lo schiavo Sosia incontra Mercurio che ha preso in tutto e per tutto la sua identità e gli dice guarda che Sosia non sei tu sono io e Sosia dice come no Sosia sono io no sono io poi addirittura si picchiano Mercurio gli dà un cazzottone in faccia e allora Sosia dice vabbè ho capito no Sosia sei tu e l'altro se ne va vincitore dopodiché Sosia commenta dice non esiste un latte così simile al latte di quanto quell'io è simile a me il ego simili come fa come fa quell'io essere simile a me beh è possibile perché di fatto ce ne sono due di io in giro quindi questo crea disorientamento non solo psicologico ma anche nel linguaggio parlare di un altro io non è facile parlare di un altro noi non è facile ma non è solo questo il motivo della complessità del del discorso anche in Lucrezio questi noi di ora noi di allora perché francamente noi oggi potremmo dire con tanta semplicità se anche tornassimo a nascere non ce ne importerebbe nulla perché la memoria si è interrotta e noi non avremmo la stessa identità così diremmo noi non avremmo più quella identità ecco né Plauto né Lucrezio né nessun altro poteva dire non avremmo più la stessa identità per il semplice fatto che la parola identitas non esisteva benché sia una parola latina a tutti gli effetti che deriva dal pronome idem che vuol dire lo stesso identitas non è una parola che Lucrezio poteva usare che non esisteva non la poteva usare Cicerone non la poteva usare Seneca non la poteva usare nessuno la parola identità la nozione dell'identità di cui appunto questo festival dialoghi dell'uomo ha fatto un tema onnipresente ha una data di nascita molto precisa ed è il quinto secolo dopo Cristo è anche un luogo di nascita diciamo un ambiente intellettuale di nascita molto preciso che è il dibattito cristiano sulla Trinità la parola identitas viene coniata quando i filosofi cristiani i padri della Chiesa si trovano di fronte a questo enigma c'è un Dio unico che ha tre persone e come si fa a mettere d'accordo tre persone con un Dio e ancora come si fa a mettere d'accordo un Dio che è uomo e Dio nello stesso tempo che ha due nature nella discussione sulla Trinità e sulle due nature di Gesù nasce il termine identitas e allora che si comincia perché si pone un problema filosofico concreto che è quello per teologico delle persone di Dio e della natura e di Gesù e quindi nasce il termine identitas e allora che nasce quando i filosofi cominciano a zigovolare intorno a questo enigma terribile della Trinità e delle due nature è quel momento in cui si comincia a parlare di identità prima i romani quando vogliono parlare di identità devono fare o quello che fa Lucrezio noi di adesso noi di allora cioè usare la sintassi oppure ricorrono a delle espressioni molto indicative secondo me anche molto belle identità in questo senso a Roma si dice notizia o cognizio cioè il fatto che gli altri ti riconoscono quella è l'identità l'essere riconosciuti è bella una nozione di identità che nasce dalla comunità diciamo dal gruppo all'interno del quale si vive che ti attribuisce lui l'identità riconoscendoti spesso usano gli autoratini questa espressione perché nella non so nel passo di una persona c'è tota est cognizio sui nel modo in cui si cammina c'è tutta la cognizio di quella persona cognizio vuol dire tutta identità ma è un'identità che ti viene da fuori mentre l'identitas dei teologi dei filosofi è un'identità che ti viene da dentro è il soggetto che diventa identitario non sono gli altri che te l'attribuiscono è una caratteristica propria della persona che ce l'ha se la porta dentro se la porta dietro bene mi avvierei a concludere su questa spericolata avventura spericolato viaggio fra i doppi diacronici anche perché mi fa molto caldo non vorrei provocare qualche malessere mi avvierei a concludere questa avventura fra i doppi diacronici in questo modo quando noi parliamo di pitagorismo orfico o quel che sia quando parliamo di filosofia stoica quando parliamo di epicureismo lucreziano che dice gli atomi possono ricomporsi nello stesso modo e quindi ricreare altri noi nel futuro eccetera noi non parliamo di niente di qualche cosa di dichiaratamente fantastico mitologico stiamo parlando di teorie filosofiche cioè dell'equivalente di teorie filosofiche come quelle che circolano oggi riguardo essenzialmente all'economia all'etica al comportamento cioè sono riflessioni di pensatori che fanno parte del bagaglio di una persona colta quindi il paragone che facevo tra gli stoici e Blade Runner è forviante perché Blade Runner è un film mitologico e poi una forma di intrattenimento anche se molto intelligente quello che fanno gli stoici è una teoria filosofica che ha poi delle conseguenze sulla visione del mondo la metafisica l'etica eccetera questo per dire che quando Virgilio in quella bellissima ecloga che lancia così un un messaggio di pace al mondo attraverso il sorriso di un bambino che è una delle cose più belle secondo me che siano state pensate l'idea che il mondo rinasce intorno a un bambino non sta facendo niente di diverso da una teoria filosofica cioè se lui dice torneranno gli eroi di il mito lui sta applicando dei dogmi filosofici che probabilmente ha studiato a scuola in cui crede e che quindi fanno parte di ciò che noi potremmo definire il suo orizzonte culturale ecco che improvvisamente questo testo assume secondo me la sua giusta distanza è un grande testo è un testo che abbiamo continuato a leggere che è stato cristianizzato da Costantino interpretato da Dante studiato da decine e decine di filologi letterati tradotto eccetera eccetera però è un testo prodotto in un orizzonte di pensiero radicalmente diverso un orizzonte di pensiero in cui la filosofia proponeva queste soluzioni noi ci risaremo in qualche forma gli eroi torneranno avremo memoria non l'avremo più avremo i nei non avremo più i nei però di fatto questa è una visione metafisica complessiva che sta attorno a questo grande testo che noi non abbiamo più e che proprio per questo motivo secondo me ce lo rende ancora più caro raro ed affascinante vi ringrazio grazie grazie a tutti grazie a tutti